Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. All'allacciamento con l'A1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code tra l'allacciamento con l'A11 a Firenze Scandici in direzione Roma e in uscita a Firenze Scandici provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Roma code tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e in uscita a Firenze Sud. A Firenze domenica torna la Firenze Marathon con partenza e arrivo in Piazza Duomo e percorso sui viali. I provvedimenti di circolazione e le deviazioni del trasporto pubblico sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!